Nel decennio che va dal 98 al 2008 si sono registrati in Toscana 208 casi di suicidio all'anno nei maschi e 63 nelle femmine, dati che pongono la Toscana un po' al di sopra della media nazionale. Anche se negli ultimi anni il fenomeno è in diminuzione, permangono delle aree, soprattutto la montagna e le isole, dove il fenomeno è ancora importante. Ci sono tutta una serie di indicatori che ci consentono di capire il rischio di suicidio in queste persone, il consumo di farmaci, l'utilizzo dei servizi. Ecco, il poter incidere su questi fenomeni, il poter parlare del suicidio, già questo fa prevenzione. E allora lo abbiamo fatto, abbiamo deciso di farlo, istituendo una rete di operatori, formazione e poi un centro di counseling appunto su questo tema. Quindi un'iniziativa importante su cui spero si possa presto vedere il risultato. In Casentino e nella zona delle colline metallifere dell'Amiata Grossetano, è partito tre anni fa il progetto Montagna in Salute, nato dalla collaborazione tra l'Unceme Toscana e la Regione, un progetto di prevenzione del disagio che ha dato buoni frutti e che da novembre potrà contare anche sul numero verde regionale. I cittadini possono chiamare e che a quel momento verrà attivato un meccanismo di servizi codificati, una carta dei servizi, dove in base alle richieste che fanno i cittadini si muoverà la macchina, proprio per arrivare in tempo, per seguire e soprattutto per dare un punto di riferimento ai cittadini. Quello della Toscana è il primo call center dedicato alla prevenzione del suicidio in Italia. Il percorso sperimentale avviato con il progetto Montagna in Salute verrà esteso prima alle società della salute montane e poi a tutte le altre società della salute.